partenza sfmb per bra questo era un dei passeggeri distratti stanno fumando la sigaretta da tranquilli quello è partito che sfiga ed era pure l'ultimo ma hanno fatto per salire sì era l'ultimo se me lo chiedono io dico era l'ultimo per bra questo non lo so ma ho visto che ha fatto ho visto che hanno schiacciato per aprire ma aveva già blocco porte in inserito e no però verrà no